Motas, bondes, des, 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 des! Allora, domenica vincente, ho portato il mio ragazzo Giampiero, mio allievo, a combattere presso MGM in zona Corvetto Milano, un evento organizzato dalla Friskan del presidente Rinaldi e il ragazzino, 16 anni, in discipline che si chiama grappling, cioè sarebbe lotta, detto in poche parole, ha fatto la sua vittorietta, diciamo così, ed è stata una giornata simpatica, dell'incontro ho preso i momenti salienti, non vi ho fatto sorbire tutti e quattro i minuti, ho preso alcune parti, diciamo, le più importanti e ve le ho proposte, e poi col resto della giornata, così. Por passante qualche urdo insieme della bocciua, c'ha pensato che l'ho un biscotto, non so cos'ho detto, ma va bene stessi, nemmo a vedere. Sì, va bene, allora, facciamo un'osso. Dai, via, forza, culo indietro, eh! Forza, dai, dai, che hai preso la monta, con calma, stabilizza, c'è la monta, hai fatto i punti, non farti girare. Due punti, li hai fatti, tieni lì, non farti girare. Bravo! Con calma! Riassesta la posizione se non riesci a chiudere! Riassesta! Tieni, tieni, riassesta! Bravo, bravo, bravo! Tranquillo! Così ti gira, prendi l'altro braccio sotto il collo! Scusa, quanti minuti dura? Guarda, sono già passati, eh! Vince, incontro, l'atleta, all'angolo, blu! E allora? Grande! Preparassi! Io e Giampi, Giampi! vittorioso con il suo incontro di greffin vinto oggi, con un ventenne, grande Giampi, siamo alla fiera degli Ubei Ubei! E, indovinate, qual è il reparto che interessa all'Andrea diabetico? Quale sarà mai? Quale sarà mai? Scusa, come è il che? Guarda, è il che! Scusa, cos'hai detto? Grazie per la pannocchia! Ascolta, io la pannocchia la do solo alle donne, eh! Mi spiace, ragazzo, ma la mia pannocchia è esclusiva delle donne! Non la do ai maschi, la pannocchia! Almeno la mia! Che battutona, madonna! Guardate la reazione della signora, porta via il marito! Da vecchio porcone! Buona! Immagino la signora che era davanti ad ascoltare, guarda, è stata felice! Signora, è una bella pannocchia! Dami il sacchetto, tieni il sacchetto, è sotto, tignilo su! Poteva mancare alla fiera di Ubei Ubei il nostro bellissimo ciurros, ripieno, non ho capito di che cosa, ma è buono, e poi ce lo pappiamo! Grande Jean-Pierre! Siamo fermi a precotto, vedete che manca anche l'illuminazione, è tutto spento le luci, perché ci hanno appena comunicato adesso che qualche rincoglionito si è infilato in galleria e quindi hanno sospeso l'elettricità e la circolazione, vedete che è tutto spento, non ci sono le luci accese, sono accese solo le luci dei monitor, ma... Oh! E fu luce fu! E fu luce! E le chiude e si portano, non è che si chiudono le porte, le chiude e si portano, giustamente. Jean-Pierre, basta parlare, eh! E torniamo a casa dopo la grande vittoria del nostro Jean-Pierre!